Svelata l'edizione 2022 del Teramo Natura Indomita, un calendario ricchissimo che prenderà il via martedì 21 giugno per concludersi il 30 settembre con un evento a cura dell'Università di Teramo. 100 giorni di eventi che animeranno l'intero territorio della città dal centro alle frazioni. Tre big della musica Noemia Risa, Filippo Graziani e Litfiba che a Teramo dovrebbero dire stop alla loro lunghissima carriera. Teramo Natura Indomita è nata dalla voglia di una comunità di rigenerarsi dopo la pandemia, dopo i momenti di difficoltà legati alle chiusure forzate dei luoghi della cultura. Sin dal primo anno ci siamo messi a servizio della comunità e delle associazioni del territorio. Abbiamo costruito questo contenitore, un contenitore che anno dopo anno cresce sempre più, diventa sempre più attrattivo, si consolida nella tradizione teramana e evidentemente richiama turisti ma soprattutto richiama la comunità teramana e quanti nel corso dell'anno fanno cultura nel nostro territorio. Sicuramente sui grandi eventi stiamo lavorando sui numeri del Natale della Mano, quindi su piazze che vanno a 5.000 persone, a parte i concerti di Arisa che sono seduti e chiusi per mille, però ecco Litfiba, Noemi sono tutti concerti che lavorano sulle 5.000 unità. Ma poi sappiamo bene che, per lo meno per l'esperienza passata, che tante persone rimangono fuori, quindi per la città saranno dei momenti di festa. È come chiudere un cerchio per noi. Prima si parlava di un agosto dove Teramo era vuota, dove tutti andavano al mare, oggi vogliamo far vedere un'immagine della città di Teramo completamente diversa, piena di gente che si vuole divertire, quindi finalmente una vocazione estiva costruita e ottenuta. La grande novità è l'allargamento della Kermess anche a paesi al capoluogo collegati. Protagonista in questa edizione è il comune di Pietracamela che ospiterà il concerto di Roberto Vecchioni. Il concerto di Roberto Vecchioni che si svolgerà l'8 di luglio, venerdì sera, ai prati di Tivo, credo intorno alle ore 18. Ed è una cosa molto bella, molto importante, perché finalmente si può fare qualcosa che colleghi sia il capoluogo e sia il paese di Pietracamela nella fattispecie.